freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelance qui c'è un argomento di discussione molto interessante il famoso format i talk che fanno le domande invece che dare le risposte mi sono preparata tantissimo e vabbè però l'idea è questa io avevo un dubbio e volevo parlarne con voi se ne avete voglia e perché io adesso mi trovo a fare dei preventivi quando lavorava in agenzia i preventivi li facevamo sulla base delle ore che pensavamo di dedicare al progetto perché consideravamo la marginalità delle ore quindi io adesso mi trovo che quando mi chiedono di fare una cosa penso quante ore ci metterò quanti soldi voglio allora e l'ho imparato con il tutorial che quanti soldi e poi faccio i conti però poi mi sono confrontata con delle altre persone quindi il mio modo a e ragionare appunto a quanto tempo ci metto a fare una cosa che mia nonna la chiamava cottimo ok che non è che mi fa proprio impazzire allora ho parlato con delle altre persone che mi dicono no no sbagliatissimo tu devi stabilire una fee mensile o se per esempio un progetto continuativo o comunque stabilire una fee in modo che il cliente si renda conto che ha questa spesa fissa che esce e invece ci sono altri che ragionano in altri modi misti eccetera quindi la prima cosa che mi sarebbe piaciuto capire era come fate voi a calcolare cioè su che base calcolate i vostri preventivi e capire quali sono i pro e i contro di ogni cosa così magari riusciamo a capire il contro di ognuno e a scegliere ogni volta come fare il preventivo veramente molto interessante per tutti io provo a dare una mia risposta e poi naturalmente però vorrei anche sentire le vostre io non ho un modo unico per fare i preventivi perché non tutti i lavori sono uguali però più di vent'anni alla fine sono arrivata a un approccio di questo tipo ci sono dei lavori che a prescindere dal tempo che mi che mi richiedono comunque hanno un valore di per sé perché è un tempo in cui comunque io riverso un'esperienza quindi se devo che ne so fare l'analisi l'assessment dell'account mailchimp di un cliente io magari ci metto poche ore quando una persona con me l'esperienza di me ce ne metterebbe di più e in queste poche ore io comunque trovo una serie di problemi e di soluzioni possibili il poco tempo che ci metto io comunque genera un valore di ottimizzazione molto importante però è anche un tempo che io faccio fatica a segmentare racchiudere fra parentesi perché magari cioè un problema il problema di un cliente me lo porto dietro e trovo delle soluzioni interessanti che mi vengono in mente anche al di fuori delle ore che normalmente dedico al lavoro ecco questo tipo di lavoro di analisi e di strategia io cerco di preventivarlo a corpo a corpo cioè gli do un prezzo gli do un prezzo che prescinde dalle ore che ci metto e che corrisponde grossomodo a un valore che il cliente ottiene e dopodiché io in quel lavoro lì di analisi iniziale a volte ci metto che ne so sei ore a volte ce ne metto quindici a volte ce ne metto tre però sostanzialmente il valore che io erogo al cliente non cambia e quindi gli assegno un x dopo questo lavoro dopo questa fase iniziale ci possono essere invece delle attività più ordinarie più continuative più giorno per giorno che sono non so la verifica periodica di come stanno andando le campagne o correggere e risistemare delle fare la revisione di newsletter che loro preparano e mi mandano in test oppure formazione oppure sessioni periodiche di confronto con il cliente e queste io le quoto a ore perché e dico al cliente quanto gli costerà allora anche perché questo limita un pochino l'esagerato dispendio di richieste e io chiarisco sempre che non fatturerò solamente le ore in cui loro mi vedono in videochiamata o da loro cosa che non faccio più di andare in presenza da loro ma fatturo anche le ore che io spendo aprendo le loro email rispondendo alle loro email guardando girando del loro account mail chip quindi io ho toggle per questi clienti toggle è uno dei tanti tracciatori di tempo appena il cliente mi squilla io faccio partire il tassametro e tengo e devo dire delle volte a rotondo quando a rotondo a rotondo in eccesso perché comunque ci sono sempre delle delle sbreciolature di pensiero che vanno al di fuori però il fatto di dire al cliente tu per partire a lavorare con me paghi x per perché io come dire mi faccia carico del tuo problema e poi quando è finita questa fase iniziale mi paghi x allora aiuta loro a ottimizzare il lavoro che facciamo all'inizio e anche a non torturarmi in eterno con le richieste successive attenzione che se si fa questa cosa bisogna sempre chiarire molto bene quali sono i cosiddetti deliverable che terminano nella fase di analisi quindi che chiudono la fase di analisi quindi io dico vabbè alla termine della consulenza iniziale io ti do una traccia scritta delle cose che devi fare la roadmap con la tua strategia di email marketing facciamo da x a x chiamate per un totale di massimo 8 ore di call e hai assistenza in remoto fino a due settimane dopo l'ultima chiamata questo significa che dal sedicesimo giorno dopo l'ultima chiamata ogni volta che tu mi chiami scatta il tassametro in questo modo riesco a insomma gestire bene poi devo dire che ho trovato in altri casi a certi clienti ho proposto delle formule un po' diverse che alla fine non è che sono tanto diverse nella sostanza in termini di somma finale però mi è capitato ultimamente di sperimentare una formula di tipo visto che tanto so che avrai bisogno di me per 3-4 mesi ti propongo un fee mensile in cui sono comprese che ne so una o due chiamate in videoconferenza e l'assistenza a distanza via email e ho visto che tutto sommato ci sto dentro tranquillamente con i prezzi e con le ore e chiaro che magari è più il tempo e l'impegno del primo mese rispetto a quello del quarto mese però ci siamo presi un impegno per x mesi quindi io so di avere un'entrata garantita loro sanno quanto spenderanno e soprattutto hanno la sicurezza che per un certo periodo di tempo le accompagnerò. Attenzione che sono tutti metodi che vanno bene per chi come me fa essenzialmente la parte iniziale di startup dei progetti per i follow up continuativi francamente per quello che vedo intorno a me forse la cosa migliore è fare delle proposte iniziali per i primi tre mesi con l'idea di dire ok per questi primi tre mesi ci tariamo su questo impegno e ti costa x al mese poi dopo riconsideriamo come andrà a continuare il fatturare proprio strettamente a ore con toggle trovo che sia sì sì non mi piace vai simone spiega tu perché allora no la mia opinione basta ovviamente però non dovremmo vendere a ore mai per una serie di motivi poi se ne può anche parlare perché anche se essendo voi quasi tutti freelance lo sapete già per quali sono i problemi no quindi si dovrebbero sempre costruire dei prodotti poi magari non li vendiamo come prodotto quello che offriamo ma noi lo dobbiamo costruire dentro di noi e trattare come tale che sia una consulenza iniziale o che sia un lavoro continuativo poi appunto non solo può chiamare in testa supporto affiancamento quello che è poi usare la parola giusta aiuta perché no le parole sono importanti perché formano il pensiero però io suggerisco di fare delle offerte che abbiano quindi una descrizione dall'inizio alla fine quindi quello che c'è scritto e quello che facciamo qualsiasi altra cosa non sia scritta è un altro preventivo perché qual è il grosso problema il primo è difendersi c'è paura o certezza che il cliente tenderà sempre approfittarsi di me un po' perché io vengo da una zona in cui ci si approfitta sempre degli altri scientemente ma soprattutto per ignoranza del committente e davanti all'ignoranza voi cosa fate? tendete a regalare a dargli in conto sbagliatissimo quindi definire il prodotto dargli un valore sapere voi quanto ci mettete però io vi posso dire per mia esperienza che sicuramente sbagliate a dargli il prezzo e i vostri prezzi sono tutti bassi perché perché intanto autovalutarsi al di là dell'impostore che gravita su di noi ma è sempre molto difficile se ci pensate un po' quando se faccio fare un esercizio date i voti a un altro io credo l'ottanta per cento delle persone più presenti andrebbero in difficoltà no? e quindi gli do un po' di più ma gli devo dare giusto il voto giusto quindi la valutazione è già difficile l'autovalutazione è peggio e questo è il primo problema e il secondo è il valore di mercato voi conoscete il vostro mercato i vostri concorrenti il valore della vostra offerta oggettiva cioè l'Alessandra lo sa lo start up di un progetto di mail marketing che valore ha nei tempi in cui può essere fatto con le automation con tutto quello che viene subito portato in dote all'azienda con il lavoro quindi intanto ci deve essere una grossa conoscenza di quello che siamo in grado di dare poi aumentare sempre i prezzi e non smettere di fare i preventivi a costo orario sempre il concetto vale è preventivo sviluppo web software house che cosa fa? prende il costo del personale fa la previsione del tempo che ci vuole ci vuole 8 ore 8 mesi di progetto mi occupi le persone il prezzo è e il prezzo finale è questo sbagliatissimo perché quello è il prezzo di partenza finale poi ci devi mettere altre cose cioè il valore dell'oggetto i miei programmatori sono uguali agli altri? no i miei sono meglio perché sono meglio? perché ci hanno delle cose e te le racconto faccio il venditore ok? però il concetto è quello cioè costruisco il prezzo partendo dalle ore ma non può essere 8 ore uguale preventivo c'è anche un valore di quello che fai il cliente paga il vantaggio che ne ha il nostro problema è il lavoro che noi ci mettiamo a fare a dare un certo servizio produce un qualcosa che è percepito dal cliente come un valore maggiore perché se io ci metto 10 ore e mi voglio pagare 80 all'ora queste mie 10 ore devono produrre qualcosa che viene percepito non 800 euro ma di più cioè deve generare un valore molto più alto perché il cliente mi paghi 1000 1200 quindi c'è un tema nostro di efficienza nel lavorare ma c'è anche un tema di quanto noi valorizziamo i servizi che noi offriamo in modo che i clienti siano disposti a pagarci a prescindere dal quanto sanno che ci mettiamo noi quindi l'esempio che faceva prima Alessandra di dire ci metto 8 ore uguale ma io sono io è lì per esempio un pezzo della valutazione sei te che devi spiegare anche attraverso il prezzo a educare prendi termine educare in senso un po' ampio la controparte perché quando tu parli con un ufficio acquisti se è un ufficio acquisti qualificato puoi anche entrare un po' nel merito o ti ha ti ha cercato la controparte tecnica che capisce il tuo lavoro diversamente è il prezzo che racconta la tua offerta parliamoci chiacchi Gianluca poi dimmi se sbaglio ma insomma e poi soprattutto non è che se l'Alessandra ci mette 10 ore a fare una campagna di mail marketing arrivo io ce ne metto 50 non facciamo la stessa cosa i campionati di serie A serie B esistono cioè i giocatori di serie A vengono pagati in una cifra i giocatori di serie C che fanno lo stesso sport in teoria lo stesso ruolo vengono pagati un centesimo un millesimo un milionesimo e perché questo fanno gol tutte e due magari no? però uno è Cristiano Ronaldo e un altro no ce n'è uno ora Cristiano Ronaldo è un po' particolare ma insomma i giocatori di serie A ce n'è un numero ok? quindi la tua ora è figlia della capacità di fare il mestiere ma della tua esperienza la tua esperienza non solo tecnica tu dai all'azienda che ti paga anche la garanzia che è un'esperienza nel trattare con loro nel sapere anticipare problemi nel saperli risolvere e comunque se te fai una cosa sono convinto la fai pagare troppo poco quindi aumenta subito i prezzi mi inserisco anche perché più o meno avevo pensato di fare uno speech ma poi non ho pensato lo speech allora ho detto adesso mi inserisco così faccio bella figura senza averlo deciso prima sono vicino alla cassa mi sposto allora io non sono così transciante nel dire cioè nel dire no al pagarsi a ore dipende quanto ti fai pagare a ore e se riesci a riempire tutto il tuo tempo orario e se le ore che ti fai pagare sono effettivamente le ore che fai perché poi ci sono sappiamo tutti che ci sono delle ore mentali io non so le chiamo ore mentali in cui mi trovo a pensare su certi progetti già che non sono ore che posso dire ah ho fatto un'ora su toggle a parte che per il lavoro che faccio io io non Alessandra lo sa cioè ho provato perché anche io venendo da 20 freelance camp di fila tutti no devi monitorare le ore i minuti i secondi se no non capisci quanto io ho mai fatto quindi sono il peggiore peggiore di tutti però non sarei così transciante cioè quanto si fa pagare allora un medico specialista in un particolare problema alla caviglia eccetera si fa pagare 200 euro all'ora minchia a me andrebbe bene no? però effettivamente lui è molto bravo perché si fa pagare dal momento in cui uno entra nel suo studio e finisce nel momento in cui uno esce dal studio poi vabbè intanto magari ti chiama a dire ma mi fa ancora male il ginocchio però è un cadeau quello no? quindi se riusciamo a essere quelli va benissimo se non riusciamo a essere quelli come di solito è un po' difficile da fare allora credo che valutare solamente le ore può essere anche qua dipende anche dal tuo lavoro se io sono un traduttore poi è difficile andare a spiegare qual è il mio valore aggiunto per cui non mi faccio pagare a ore per fare 20 cartelle c'è un mercato e più siamo comparabili no? in quel mercato più è difficile sfuggire alla misurazione standard di quel mercato no? 10 cartelle x oppure 10 cartelle normalmente ci si mette y ore che equivalgono comunque a un costo per cartella quindi non si così non si sfugge secondo me invece se vogliamo invece non lavorare per ore ha senso quello che stavamo poi dicendo cioè nel marketing c'è il cosiddetto willing to pay cioè quanto è disposto a pagare un mio cliente un mio servizio chiaro che se vado dal pizzaiolo può pagare x se vado dalla multinazionale y può pagare x per mille e il nostro tempo è sempre lo stesso cioè a parità di complessità insomma ma perché? perché il freelance questa è una frase che ogni tanto mi tiene in mente non è esattamente un dipendente di cui tu compri un pezzettino è un moltiplicatore quindi se tu moltiplichi 10 per 0,1 come nel caso del pizzettaro o del fruttivendolo il tuo lavoro vale 1 se tu il tuo lavoro lo moltiplichi cioè il tuo moltiplicatore lo metti su un possibile valore aggiunto di una multinazionale il tuo valore è molto più alto cioè tu sei il moltiplicatore dipende anche da cosa lo moltiplichi no? per questo è molto più facile lavorare secondo me non a ora quando hai un certo tipo di progetto che non è semplicemente esecutivo posto che c'è gente che vive felice lavorando su particolari task esecutivi che sono utilissimi e servono ma questo discorso dicevo è molto più è molto più facile se riusciamo andare a lavorare per quelle aziende per cui il nostro moltiplicatore si moltiplica il nostro fattore si moltiplica diciamo per un possibile valore aggiunto che gli diamo più alto allora sì che ne possiamo mangiare una fetta no? se io lavoro un'ora per grande e-commerce e riesco a faccio un caso proprio così primo che mi viene in mente riesco a trovare il modo di migliorare la customer lifetime value del cliente da 100 a 200 loro hanno 100.000 clienti gli ho fatto guadagnare 2 miliardi che non funziona mai così però insomma eh? in un minuto ma io poi gli dico che ci ho pensato lungamente perché se no non è credibile se è poi cito Picasso no? so che ormai è troppo usurata questa cosa quindi bisogna trovarne un'altra ma se io dico ah sì ti moltiplico il customer lifetime value di quello che vende due magliette al mese lui mi dice ah wow bravo Gianluca però ok cosa ci hai guadagnato? 20 euro te ne lascio 10 grazie ho capito questo è il problema cioè il problema è come funziona quindi è come funziona il capitolo 2 di quello che ha detto Simone cioè che noi dovremmo basarci sempre sul valore che riusciamo a apportare e cercare di mangiarne una fettina e più andiamo su quelli che possono molti cioè mettere un moltiplicatore al no cioè noi siamo il molti vabbè mi sono incasinato comunque c'è un x per y no noi siamo x il nostro x può essere anche molto alto ma se lo andiamo a far lavorare su qualcuno per cui l'y è basso il valore anche con tutto il buon cuore di questa azienda che lavora che si chiama y cioè non ce la potrà mai riconoscere questo valore ma perché? perché è un progetto che anche se tu gli raddoppi tutti i KPI della storia guadagnino mille euro in più ok? non te ne possono dare cinquemila ok? questo è un po' un po' il concetto ed è anche un po' un po' quello che volevo dire dopo anche sul lavorare per molti clienti rispetto a tanti piccoli clienti no? trovare i clienti giusti allora anche qua secondo me non c'è un modello di business migliore di un altro c'è un sacco di gente che lavora in quel terribile mondo dei portali dei marketplace per freelance ilens adesso non so se qualcuno di voi ha qualche esperienza di questo di questo tipo non dico che non funzionino cioè in realtà c'è gente che riesce a automatizzare talmente bene il proprio lavoro anche in quel caso lì e fissare vuoi una gif? ti faccio la gif boh, chiuso fatture cioè paghi eccetera è un modello di business che può funzionare però dobbiamo essere noi in primis ad essere adattabili a quel modello perché comunque è un modello che anche attraverso questi marketplace riesce a riesce a portare un sacco di traffico cioè fanno tanto traffico io una volta sono entrato in uno di quei gruppi stavo cercando degli altri gruppi tipo freelance camp per vedere cosa c'è in giro e c'era un gruppo di freelance appunto che lavorano soprattutto con questi portali c'era gente che era contentissima a me sembrava l'inferno sulla terra ti pago 20 euro per farmi un'animazione il logo il logo a 30 euro che tutti noi diciamo ah il logo a 30 euro questi ne fanno 10 in un giorno ok o in una mattina e questi sono contenti lo stesso si prendono ha speso 20 euro ci hanno messo 30 secondi ci hanno ha preso 20 euro in 30 secondi quindi dobbiamo capire se noi siamo Amazon fondamentalmente nel nostro piccolo o se siamo una sartoria specializzata in un certo chiaro che il vestito su misura non è che a tutti questi clienti che possono spendere per per andarseli per andarseli a trovare io trovo in generale che lavorare con un numero di clienti limitato riesca a come dire far percepire meglio il valore che gli stiamo dando oppure non farglielo percepire quindi dopo un po' diciamo se ne va mentre io trovo molto difficile far giustificare per esempio un 200 euro all'ora per qualcuno che mi compra 3 ore io penso prima dico ma io non lo comprerei non mi comprerei no? invece magari non lo sbaglio però un po' perché normalmente non è che uno possa sperare di tirar fuori chi sa che cosa dal cappello in 3 ore o in 4 ore non è detto però però già quel modello orario lì mi da l'idea che sia un cliente che non è in grado di o che non sa esattamente quindi a volte mi metto la mano sul cuore e gli dico guarda ci facciamo una call di un'ora e mezza e poi vediamo lui capisce che su e-commerce non funzionerà mai e quindi gli ho fatto un favore comunque aumento la complessità perché in realtà la mia domanda era un'altra ma bisognava partire da prima secondo me il valore aggiunto del freelance è la flessibilità cioè quando io ero in agenzia l'agenzia non è flessibile tu hai un contratto fai quello punto e hai pagato per quello e non mi puoi chiedere nient'altro se vuoi qualcos'altro ti faccio un altro contratto invece la cosa bellissima che io trovo adesso nel fare il freelance è che posso veramente lavorare di flessibilità e io voglio che il cliente mi chiami tutte le volte che ha un dubbio perché non voglio sapere fra due mesi che ha fatto una cazzata e io non lo sapevo quindi per questo io chiedevo poi la questione delle ore perché quello che sto provando a fare adesso ma non so se ha senso è di dire guarda tu di base mi dai x euro al mese perché io penso che più o meno per le cose base mi basti quello poi se mi chiedi di più io te lo dico a fine mese intanto perché voglio che si senta libero di chiamarmi o non chiamarmi quando ne ha voglia o non voglia lui quindi che sia veramente un atto di fiducia e lato mio se lavoro di più voglio essere pagata di più e non voglio chiedergli di più per paura di non essere pagata abbastanza perché si crea una relazione disgustosa che è basata solo su sui soldi e non sulla collaborazione quindi in realtà la vera domanda è più questa però non potevo partire da questa perché era troppo filosofica nella mia esperienza il problema vero con l'essere pagati a ore per cose che non sono esplicitamente esprimibili in ore le ore di formazione le ore di consulenza in presenza le ore di presenza in azienda eccetera eccetera è che poi il cliente vuole la rendicontazione e lì nella mia esperienza lacrime sangue e litigate perché non è in grado di valutarle il famoso discorso di perché tu ci riesci in mezz'ora o io certe cose davvero in un'ora di consulenza per la parte organizzativa riesco a capire una persona a darle delle risposte perché mi sono fatta al culo per vent'anni quindi non è che lo sto fregando e ho culo e riesco a dargli delle cose in poco tempo gli riesco a dare delle cose in poco tempo perché ho passato vent'anni ad affinare delle capacità delle esperienze a leggere e vedere ora questo è immateriale quindi dal mio punto di vista meno devo essere portata a esprimere il costo orario di tutte queste cose che sono soggette all'immateriale cioè i miei anni di esperienze e tutto quanto meglio è per me il nodo cruciale davvero è quello aggiunto a tutto quello che hanno detto loro sul fatto che il dipende che ci sono delle cose non le cose eccetera è capire bene che nel momento in cui tu quantifichi una cosa a ore e gliela fai pagare a ore ti esponi a dover dare una rendicontazione se pensi di essere in grado di gestire quella rendicontazione in maniera davvero come dire sostenibile per te e per il cliente ribadisco le ore di formazione le ore di presenza in azienda timbri il cartellino tra un po' cioè come dicevamo prima lì alla palissiano sei lì a loro totale disposizione poi anche lì sei entrato quattro ore in azienda e poi due ore non ti hanno degnato di traverso e tu sei stato lì a tirarti pollici però eri lì e non potevi essere altrove e loro ti pagano per quello però ribadisco quella è una roba che non hai problemi a rendicontare perché loro ti hanno visto lì sanno che se in un qualsiasi momento passavano davanti all'ufficio e ti fermavano tu rispondevi e quindi per loro è chiaro per me davvero il nodo fondamentale oltre a tutto quello che è già stato detto eccetera eccetera è davvero quello e non mi sarei molto attenta a cercare di mettere su un sistema meravigliosamente aperto disponibile siamo liberi tutti perché perché sì la flessibilità è quello che diceva Bigliana cioè la capacità di avere la mente di passare da un punto all'altro e collegare puntini la valore cioè rispetto all'agenzia che è ingessata in ruoli funzioni precise eccetera eccetera il freelance ha questa libertà che se decide che passa una settimana a studiarsi una roba da zero e lo comincia a fare può farlo quella è la flessibilità non zerbino fai di me ciò che vuoi cioè il problema legato al tuo tempo quante ore al giorno lavori? quanti giorni alla settimana lavori? cioè le tue ore non sono tutte uguali e lo smart working che è smart solo perché lavori di più quindi hanno scoperto che lo smart working in Italia rende le persone più produttive in realtà le fa lavorare di più quindi ci vedo sono più produttive lavorano quattro ore in più il giorno tre ore in più il giorno ok però il punto è quello per esempio tu non se tu volessi lavorare facciamo un discorso al contrario il mondo è perfetto sono tutti bravi ci si fida l'uno dell'altro e tu lavori a ore senza problemi con la cifra che vuoi sei convinta di riuscire a lavorare otto ore al giorno in maniera produttiva cioè otto ore che tu firmi e capito quello che voglio dire la mia esperienza mi dice che siamo produttivi cinque sei ore al giorno ma ma quando sei un un drago no? ok e ma te poi il tuo costo mensile i tuoi costi mensili o quello che vorresti guadagnare ti può farsi una vacanza ogni tanto cioè come si fa quindi o fai l'overbooking cioè vendi due volte le stesse ore a persone differenti oppure ti devi muovere in un altro modo quindi anche in un mondo ideale con tutti i problemi del caso quello che non ha la capacità ma ti viene a guardare quello che fai e su cosa tratta sul prezzo perché sono i suoi soldi non i tuoi sono i suoi soldi il tuo lavoro ma i soldi sono i suoi è proprio un problema operativo tuo quindi il discorso appunto di creare un servizio anche a ore eh per esempio l'Alessandra dà la disponibilità a un'azienda che fa so due ore al mese fa un check con chi fa email marketing in azienda e guardano insieme i report oppure l'azienda fa un tipo nuovo di campagna basata sulla strategia iniziale di Alessandra e lei fa lì alla fine sono ore è chiaro che sono ore no? cioè io nel preventivo metto sono quelle cioè non sono di più sono quelle però il valore non è orario perché lei non lo può fare per 400 aziende cioè ora poi è lei ma vale per tutti i freelance per tutti i consulenti via fare dei forfè mensili per un numero fisso di mesi previsto ho visto che le cose miglioravano sia per il cliente che sapeva già quanto avrebbe speso a fronte comunque di una tranquillità di avermi a disposizione che avermi a disposizione non significa mi puoi chiamare qualunque ora del giorno della notte per carità però sa che comunque una o due volte al mese facciamo una call che dura il tempo che deve durare e che quando ha un problema e un dubbio su una campagna mi scrive e io nel giro di solito di un giorno gli rispondo a quel punto lì io non devo più contare le ore su toggle è chiaro che ho fatto una stima e che il forfè mensile l'ho dimensionato rispetto all'impegno però loro sanno quanto spenderanno io so quanto prenderò e alla fine andiamo meglio entrambi in termini di sicurezza in termini di eh di anche reddittività del lavoro e abbiamo spostato il valore da una disponibilità cioè dalla rendicontazione e controllo delle ore al dare valore appunto al progetto questo ripeto non non esclude la valutazione del numero di ore non esclude il fatto che in certi che da un certo punto in avanti si possa anche decidere di farsi eh pagare a ore è più quello un sistema per limitare cioè per chiarire bene non sono a tua disposizione all'infinito io sono un brutto animale che si fa pagare ore però mh dipende da una serie di cose allora dal tipo di lavoro che faccio io faccio sono uno sviluppatore mi arrivano i lavori sostanzialmente sempre diversi per cui come mi comporto eh ho una tariffa base che viene fuori dai conti che ha insegnato a fare l'Alessandra e sotto quelli non si scende perché vuol dire dare i soldi al cliente e non ha senso quindi mi chiami ho questo problema qui e là te lo descrivi vagamente ti fai un'idea mh poi bisogna approfondire allora facciamo una due quattro un certo numero di ore la mia tariffa è x dove x è maggiore o uguale quel valore minimo dei conti della serba dopo quella quella analisi che è stata fatta sarò in grado di dirti ci possono volere cinque minuti un'ora un giorno un mese e su quella comunque io propongo il pagamento a ore cioè gli do un tetto massimo con l'indicazione che se durante il lavoro mi rendo conto che la stima iniziale era sbagliata e quando arrivi al 70% del lavoro e ancora non vedi la fine del tunnel prima alzi la bandierina rossa e meglio è per tutti poi magari ci vuole il doppio del tempo però glielo dici quando hai preventivato che gli farei spendere mille e poi invece saranno duemila se glielo dici quando ti deve cinquecento si risolve se gli dici a mille e due guarda che siamo già fuori tu sei già gli hai già fregato duecento euro e quindi non può funzionare spesso quando tu dici a ore e le dicono eh ma tu ti metti lì ci pensi dici non so quanto ci pensi dici no guarda che ti ho fatto una stima di massima e vedi c'è molti ragionano a corpo allora per la mia esperienza a corpo e e tu devi fare un preventivo basato tipicamente su quanto tempo ci posso mettere perché comunque alla fine dei conti i conti della serva devono tornare quindi se quel lavoro ci vogliono 20 ore a farlo ok io posso dire che ci metto 20 moltiplicato per e ti costa quella cifra lì ma la cifra che devi applicare per la mia esperienza non è la cifra che faresti pagare a tariffo oraria ma dovrebbe essere anche il doppio perché tu ti assumi un rischio cioè se il lavoro si incasina e tu ci devi mettere più ore devi avere quel margine se invece io ti faccio pagare solo le ore che faccio ti faccio un favore perché nel momento in cui le cose sforano paghi solo quello addirittura io sono proprio codice SD se ti dico che ce ne volevano 10 ce ne metto 7 fatturo 7 ma lì dipende anche dal flusso di lavoro che ho io cioè io sono ho pochi clienti tipicamente mi interfaccio con delle agenzie ho dei rapporti duraturi quindi si fidano di me sostanzialmente si fidano a me i clienti mi arrivano per passaparola e quindi sanno già come sono come lavoro io metto l'accento sulla qualità del mio lavoro io mi definisco un artigiano del web quando faccio un lavoro è fatto è bello funziona bene non ci tipicamente non bisogna più metterci le mani c'è codice mio che gira da vent'anni in prodotti grossi quindi tutti contenti tutti a posto tariffa oraria tariffa base e sotto quella non si scende poi dopo la tariffa è in funzione del tipo di lavoro che mi viene chiesto mi chiedi mi telefoni il venerdì sera alle sette e mezza ho bisogno di risolvere assolutamente questo problema ti metto sul supplemento rapido tutto salvo poi trovarmi a discutere con il ragioniere dell'azienda che mi dice ecco non puoi chiedere questa roba qui per un lavoro di cinque minuti ho detto guarda il tuo capo mi ha telefonato alle sette e mezza di sera del venerdì e ha detto che se quella roba lì non è se quelle mail aveva un mail server fermo ho detto stavano aspettando una commessa da due milioni di euro e se non arrivava vi licenziava tutti quanti eh no ma dopo diramela a contesto ho detto te non ti preoccupare fai quell'assegno e poi dopo se ti dicono qualcosa li mandi da me quindi mi chiedi l'urgenza tariffa alta mi chiedi un lavoro che ci vorranno tre mesi e quindi io so che per tre mesi sono tranquillo ti faccio una tariffa più bassa mai sotto il limite minimo io per fortuna sono riuscito a organizzarmi in modo da avere un flusso abbastanza costante e quindi facendo proprio i conti dell'Alessandra conto so che sono produttivo per sei ore al giorno voglio fare tot giorni di ferie e via dicendo e alla fine viene un numerino che deve essere quello a volte la prima volta che l'ho fatto alla luce anche delle tariffe che applicavo e via dicendo ho detto eh no ma è troppo mi sono fatto delle grosse cioè ha senso che io voglia fare quel lavoro lì se non sono neanche capace di farmi pagare quello che mi serve per campare come voglio campare cioè piuttosto cambia lavoro e fai fare un'altra cosa adesso gli artigiani dicono che si fanno pagare a peso d'oro se parli con loro non è vero però in qualche momento della mia vita ho anche detto mollo tutto e vado a fare qualcos'altro quindi il mondo è bello perché ha variato dai e come diceva Sartoni perché ha fatto uno spizio una volta proprio se voi risolvete un problema uno ed era quello che diceva poi Gianluca se risolvete un problema uno che gli fa guadagnare mille fantastiliardi gli può pagare anche due fantastiliardi tranquillamente e se non lo capisce mollatelo subito è un cliente che non che non quelli tossici ho letto un bellissimo post di recente sui clienti sui clienti tossici della Montero no no della Giuliana la Giuliana ecco è vero vero che farà il talk su questo sui clienti tossici un consiglio che io do quando si lavora con grande azienda di cui nasate annusate subito la prima volta che vi contattano che dovrete compilare il modulo di registrazione fornitori entrare nel portale caricate subito quattro ore extra cioè perché insomma anche anche così per il sovraccarico emotivo di questa cosa usare il preventivo come un'arma di sterminio codice di cioè tanto col tempo non ti sbagli lo capisci subito e allora io dico sempre a mio marito io a questi gli ho sparato una cosa che fuori dal mondo così o spariscono senza neanche rispondere e io ho smesso di perdere tempo oppure accettano e me lo pagano a peso d'oro però ci vuole tempo su quello ci vuole tempo ci vuole tempo pazienza e poi te ne accorgi io ne ho avuto uno recentemente che gli ho voluto dare il beneficio del dubbio e ho sbagliato e allora poi dopo dai è l'investimento dei primi anni comunque quello dopo il quale inizi a mettere i prezzi sul sito che non sono poi magari i prezzi di tutto quello che farai perché non puoi prevedere tutti i casi però alcuni prezzi di esempio mettono comunque cioè è l'ancoraggio perché quando uno arriva nella pagina prezzi e vede degli esempi ad esempio fare questo ti costa x si fa già un'idea e magari va via senza chiedere niente esatto è già il punto però è i preventivi sono la cosa più importante del vostro mestiere perché il preventivo dice chi siete dice anche come lavorate che voi lo vogliate o meno quindi il preventivo è un'arma di distruzione no il preventivo è sempre un'occasione e poi ripeto probabilmente dovreste raddoppiare tutti i vostri preventivi ma questo è un altro discorso è più giusto quello però il preventivo è fondamentale ok no volevo aggiungere questa cosa perché insomma quando si parla di preventivi il primo pensiero è sul prezzo ma in realtà un preventivo è un documento di brand secondo me ed è fatto bene è quella cosa che ci aiuta ad alzare i prezzi a comunicare il valore di quello che facciamo e vi prego non fatevi un preventivo in excel io amo excel ma non limitatevi a dire quanto costa cosa rendete il preventivo uno strumento che vi racconta che vi posiziona anche nell'immaginario del vostro cliente infatti io mi attacco adesso perché stiamo parlando di preventivi ma voglio dire una roba sulla prova di traduzione è vero quella roba del preventivo è tipo un atto costituzionale è il tuo momento di profonda autoanalisi e autodeterminazione però ho scoperto e ho scoperto questa cosa che se riesci a mettere assieme abbastanza autostima sale il tuo preventivo ma in attesa nel dubbio aumentate il preventivo e poi l'autostima funziona cioè anche se non ci credete 20% in più e poi piano piano cioè anche se non hai fiducia in te stesso fai la scommessa poi arriverà la fiducia la prova di traduzione mi ha fatto pensare ai clienti che ti chiedono il primo lavoro gratis e magari siccome ho sentito oggi che tanti stanno abbastanza da poco hanno aperto la partita IVA allora se avete la faccia una volta a uno gli ho detto guardi ieri sera sono uscito con una ragazza a cena però le ho spiegato siccome è la prima volta che usciamo spero che faremo l'amore prima di una certa ora ma siccome non so se mi troverò bene io nel dubbio farei pagare la cena a te poi se mi trovo bene la prossima volta la pago io secondo lei com'è andata la mia serata non hai sempre la faccia tosta per dire così io una cosetta che mi ha aiutato tante volte è stata quella di sostituire il primo lavoro gratis con il primo lavoro senza impegno cioè te lo faccio se non ti piace non me lo paghi non te lo tieni ovviamente non deve essere un lavoro di due settimane se ti piace però me lo paghi perché se a quel punto fai la cioè posso fare una scommessa su me stesso ma per una fettina di rischio l'altra fettina prendi anche tu hai perso tempo alla fine anche lui ha bisogno e basta la cosa senza impegno piuttosto dopo capisco che ci sono delle dinamiche più irregimentate no per chiudere la mia equazione no allora abbiamo detto noi siamo abbiamo un valore abbiamo il cliente è un moltiplicatore no noi siamo il moltiplicatore il cliente ha un valore potenziale possibile però il terzo secondo me elemento è o come lo chiamiamo brand la nostra reputazione allora se tu hai il brand la reputazione che non vuol dire sei conosciuto ma sei anche un po' identificato posizionato con quello che fa quello e allora dopo tutto in discesa cioè voglio dire allora il preventivo te lo posso scrivere anche sulla carta del formaggio francamente cioè quindi è tutto giusto quello che ho sentito no però dobbiamo anche pensare che cioè il cliente è disposto a pagarti anche a seconda di quanto percepisce il tuo valore a seconda di quello che gli hanno detto gli altri di quello che ha letto online di quanto cioè quindi poi tutte le tattiche sono giuste non iniziare dal prezzo più basso perché non si alza più invece di abbassare sempre in tempo come si diceva sempre però un bel preventivo funziona normalmente meglio di un cattivo preventivo eccetera eccetera però dobbiamo sempre pensare che alla fine è il nostro brand per il valore che è quello che è disposto la nostra percezione è quella che è disposta a pagarci secondo me una cosa che è abbastanza importante per me è anche rilanciare sul preventivo e su questo faccio anche una valutazione di prezzo nel senso che mi viene richiesto un certo tipo di lavoro che ha una consistenza su questa consistenza io magari facendo un'analisi sul tipo di lavoro e sull'azienda capisco che c'è margine di crescita o di crescita di collaborazione e quindi faccio di solito un preventivo di base che risponde alla domanda che mi è stata fatta e la valuto con dei prezzi a forbice e poi propongo quella che secondo me è una necessità latente di questa azienda in questa maniera prima di tutti smettono di vederti come un fornitore one shot cioè nel senso un fornitore che in questo momento ha questa esigenza e risponde a questa esigenza ma cominciano a vederti come un interlocutore che può essere attivato per tempi più lunghi e per interlocuzioni diverse magari sono arrivati a conoscerti perché sei una grafica e pensano che tu fai solo la grafica ma magari fai anche delle altre cose o hai l'interesse a entrare in relazione con questa azienda per un tempo più lungo che è il caso specifico mio io cerco sempre relazioni a lungo termine perché il costo tempo e valore di acquisire un cliente nuovo è altissimo mentre invece un cliente consolidato in realtà mi fornisce una sicurezza diciamo di risposta nel pagamento una non necessità tutte le volte di spiegare chi sei perché lo fai e se sei abbastanza bravo per farlo quindi di solito tento sempre di rilanciare in questo senso e quindi anche la valutazione del prezzo nasce da qui cioè nel senso questa azienda mi ha chiesto questa cosa il costo del preventivo per questo lavoro è questo qui ma se questo lavoro si attacca a un altro si attacca a una prospettiva più ampia io magari posso fare delle considerazioni diverse per esempio sul prezzo però soprattutto cambiare proprio questa switchare proprio su questa cosa potrei diventare un collaboratore a lungo termine o per più cose insomma io aggiungo una cosa sui preventivi una delle cose che io ho imparato sbattendo la testa contro il muro è che nei primi anni i miei preventivi di fatto erano degli studi di fattibilità mi ricordo una volta che io ho preso il classico cliente che abbiamo speso un casino con quelli di prima e ci hanno chiesto una cifra galattica per fare uno sviluppo vediamo se voi che siete giovani e pieni di belle speranze ce lo potete fare a meno io preparai tutto il mio preventivo ci misi una cifra in fondo e poi quando il progetto mi venne accettato ebbi modo di vedere il vecchio studio di fattibilità che era costato quanto il preventivo che noi avevamo fatto per realizzare la cosa e ovviamente il loro preventivo era dieci volte tanto cioè quello che avrei dovuto far pagare io ma incidentalmente e lì mi resi conto che in realtà io facevo un sacco di lavoro prima ho iniziato a smettere di fare cioè io adesso quando faccio un'offerta non dico mai non do mai già delle soluzioni qualche tempo fa mi hanno chiesto mi hanno intervistato per una di quelle interviste collettive del blog di Mailchimp in cui chiedevano a vari partner consigli e indicazioni e una delle domande era che cosa spieghi durante il colloquio preliminare e io la mia risposta è stata veramente il colloquio preliminare ammesso che io ne faccia uno più lungo di dieci minuti prima di iniziare a farmi pagare cosa che tendo a non fare però in ogni caso nella prima chiacchierata è il cliente che parla non sono io perché sono io che faccio le domande e aspetto delle risposte e queste risposte mi servono per inquadrare la dimensione del lavoro ma io molto difficilmente do delle risposte e delle indicazioni che non siano proprio una roba elementare che sblocca qualcosa però inizio a fare il lavoro vero e proprio quando ho pagato quantomeno la prima parte e nel mio preventivo metto come si svolgerà il lavoro ma non metto la strategia non metto le cose che faremo perché quelle sono parte cioè comincio a ragionare su di te nel momento in cui mi hai ingaggiata per lo meno per la parte iniziale del lavoro e di conseguenza non è che faccia dei preventivi particolarmente fighi in termini di branding forse adesso io un po' me lo posso permettere un po' me lo posso permettere perché ho già il mio posizionamento però molto spesso adesso i miei preventivi sono semplicemente un testo scritto bene, ben strutturato ma nella mail che poi viene ripreso da un pdf generato dal gestionale cioè nel mio gestionale rimetto il per sommi capi pezzi di lavoro con il numero di fianco e il gestionale me lo stampa in un formato diciamo ordinato con il mio logo in alto e tutti i dati necessari perché se li possono copiare nel loro forse è una qualità e quindi la mia offerta è una mail con un testo ben strutturato e un pdf attaccato che potete cioè se decidete di procedere me lo restituite firmato per accettazione e ho cominciato anche a diventare un pochino fiscale io sulla riavere indietro l'offerta firmata sull'avere pagato l'acconto prima della prima call vera perché insomma se uno mi fa delle storie per pagare l'acconto prima della prima call seria vuol dire che non ha così tanta fretta di cominciare a lavorare con me e visto che io invece di appuntamenti ne ho tanti può aspettare anche un paio di settimane e quando mi dicono ma le nostre procedure sono di pagare 90 giorni le mie procedure invece sono diverse poi anch'io cioè ci sono dei clienti di lunga data di cui ormai sono sicura che mi pagheranno e mi prendo anche i pagamenti a 60 e delle volte perfino 60-90 però bisogna che ci sia innanzitutto un volume considerevole e poi anche un pochino di storia dietro che mi fa pensare che insomma non ci saranno problemi chi non se l'ha guardato chi non era presente c'è stato uno zoom club mi sembra fatto a febbraio o marzo con Giorgio Trono sull'importanza del contratto e lì veramente il preventivo è un contratto a tutti gli effetti quindi pensiamolo noi per primi come un contratto perché c'è un po' questo problema che viene l'ansia del prezzo però è un contratto a tutti gli effetti quindi deve avere tutte le caratteristiche del contratto quindi esplicitare tutte le condizioni commerciali anche pedissequamente esplicitando data di quanto dura questa offerta se questa offerta tutto quello che include tutto quello che non include chiaramente proprio senza aver paura di essere noiosi o di essere troppo precisini a me mi hanno accusato di essere un po' precisina su questi contratti e poi soprattutto ecco io per esempio all'inizio tendevo a dare un po' tante soprattutto sulle strategie dicevo già quello che avrei fatto un po' e questo ho smesso di farlo e un'altra cosa che è molto importante ma molto difficile è l'acconto cioè l'acconto e il farsi pagare le analisi cioè nel senso io sono arrivato al punto di fare degli acconti anche non molto consistenti però sono quell'aggancio che ti permette di dire ok ma io mi metto qui e ci comincio a lavorare quindi prima che magari questa cosa deve diventare operativa tu come me dobbiamo partire tutte e due per fare un lavoro insieme e poi soprattutto mi sarò abituata a scorporare il costo dell'analisi dal costo operativo perché il costo dell'analisi a parte più o meno quantificarlo io probabilmente dovrei raddoppiare tutti i miei prezzi lo so però comunque queste piccole cose ti permettono se non altro di salvaguardarti cioè nel senso l'analisi ha un costo viene fatta e spesso chiusa anche in maniera tale che poi da quel punto di vista si capisce già che punto si è che interlocutore si ha che cliente si ha a quel punto se non è stata fatta nella prima fase lo viene cioè viene fatta nella seconda il preventivo viene strutturato meglio a questo punto so che cosa devo fare so in che tempi lo farò ecco un'altra cosa che ho imparato a mie spese sono esplicitare sempre le tempistiche mettendo le relazioni con la consegna delle informazioni cioè io non dico a fine mese consegno questo lavoro io dico 30 giorni dalla consegna consegno delle informazioni o delle nel mio caso non so se ci sono devo fare dei lavori grafici di tutte le caratteristiche che mi servono per procedere e veramente l'ho imparato proprio a mie spese perché tante volte il cliente ti diceva ok deve essere fatto a fine mese e poi te lo dava il 29 del mese il materiale su cui tu potevi lavorare insomma una cosa che mi manca del mio lavoro in agenzia è esattamente fare i preventivi e siccome non chiedevo delle cose per me personalmente ma per eh tutta la la mia agenzia la mia cooperativa eh riuscivo a superare questo scoglio del del chiedere e soprattutto mi piaceva molto ero anche credo diventata brava e quindi adesso che invece i preventivi li ricevo e li leggo ho molta nostalgia di quel di quel momento dirò delle cose che mi rendo conto sono anche riferite alla realtà in cui eh lavoro che è l'unica grande azienda in cui ho lavorato però forse qualche cosa vi potrà risuonare essere anche utile da da me nella eh mia cooperativa eh si lavora a budget annuali e quindi chi può spendere quindi chi ha eh un ruolo di buyer ehm a fine anno sa già quanto avrà a disposizione eh l'anno successivo e a seconda di come le direzioni sono organizzate ha più o meno potere decisionale nel decidere barra proporre la la mia è una direzione di comunicazione corporate in cui diciamo c'è un buon clima quindi a meno che non ci siano delle indicazioni aziendali molto precise io stimo quanto ehm vorrò fare delle mie attività e più o meno il costo che serve in parte questo lavoro lo faccio con fornitori che ho già e con cui voglio continuare a lavorare in parte invece faccio delle scommesse ovviamente posso più o meno avere ragione quindi in teoria io ho un budget dentro cui stare che non posso sforare quasi mai e questo mi sembra anche una buona cosa e raramente posso anche stare molto sotto nel senso che se stai molto sotto ovviamente ehm il non detto qual è hai scazzato completamente a fare il budget che non è una bella cosa ehm in generale c'è una scarsa competenza ehm nel fare questa questa operazione quindi almeno da me io non vedo una professionalità tale che ci vuole anche per fare questa operazione qui e quindi restano dei budget molto poco precisi e aleatori quindi questo è almeno per le grandi eh aziende il corrispettivo di tutti i discorsi che avete e abbiamo fatto insieme finora no? rispetto ai preventivi costi eccetera in generale sicuramente ehm un costo inaspettato è mh una bega e comunque eh provoca dei grattacapi quindi quello che dicevamo prima cercare di fare una scommessa realistica sul che cosa si andrà a spendere è sensato e in questo una rendicontazione senza nessun anticipazione eh può diventare un problema se l'aspettativa eh di chi vi compra era irrealistica quindi si aspettava di spendere dieci voi dite cento anche se il lavoro effettivamente vale cento e magari vale centodieci gli provocate uno shock ma questo secondo me è meno importante rispetto all'idea generale di dover stare dentro un budget però capita spesso che il vostro interlocutore ha un'idea molto vaga di quanto gli resta ancora in saccoccia di quanto poi può mettere a disposizione per voi per questo sono molto d'accordo sulla questione del lavorare comunque prima in generale su un posizionamento che non vuol dire diventare famosi e ricercati per quello ma avere una solida professionalità e reputazione quindi poter almeno beneficiare un pochino di un po' di passaparola o di qualcuno che ci mette una buona parola in senso buono oltre al fatto che venite cercati anche banalmente su google eccetera perché se uno poi fa un controllo su linkedin della situazione o qualsiasi altro mezzo e trova qualche referenza che lo la tranquillizza in generale se lavori per una grande azienda è difficile che un preventivo possa spaventare ecco cioè in fondo appunto non sono soldi nostri questa è una cosa importante io spendo mezzo milione di euro l'anno è bellissimo per me pagare della gente che pensa se lo meriti è la parte in assoluto più bella del mio lavoro quindi io cioè è un consiglio stupido e non saprei neanche io come realizzarlo ma trovatevi dei clienti che questa cosa la 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 sappiano cioè l'atteggiamento micragnoso dall'inizio non lo so per me sarebbe un grosso campanello poi mi rendo conto che non sempre uno o una se lo può permettere però forse questo è il privilegio che più a me profuma di freelance più ancora dei soldi delle vacanze di lavorare sulla maca proverbiale cioè mi sembra mi sembra quello c'era un'ultima cosa che mi stava frullando in testa ma non mi viene ecco come come io leggo i preventivi che dicevo allora è vero ogni tanto mi capita nonostante io li scrivessi e mettessi molta cura nel descrivere insomma la la parte di offerta tecnica diciamo mi capita di sbirciare l'offerta economica ma proprio perché io comunque cerco di avere un'idea abbastanza chiara completa del budget che ho che sto usando poi ogni tanto i miei fornitori lo sanno ce ne sono anche qui ogni tanto capita che sono in un momento in cui non ho idea di quanto a quanto sono arrivata ma dopo recupero e riesco sempre ad aggiustare e un preventivo scritto troppo spesso è anche problematico quindi io sono abbastanza d'accordo con Alessandra cioè è vero che è un documento di posizionamento branding ma non è l'unico cioè se fate fare a quelle tot pagine la about page del vostro sito il vostro curriculum vitae eccetera eccetera forse forse troppo anche perché di solito uno comunque ha un sito uno spazio dove può rimandare a queste cose e magari se il buyer vi ha contattati magari se le ha già letti quindi gli state anche ridando un'informazione che non sa quindi quelli che preferisco io prendetelo come un'opinione personale però di lunga esperienza sono cose non general generiche ma che avete pensato per il caso che vi ho sottoposto che non vuol dire fare un'analisi a gratis prima di cioè vuol dire aver pensato per un attimo che vi state relazionando con la mia realtà e che le informazioni di base le avete che soprattutto il compito è chiaro dopodiché io veramente ho qualche volta accettato prevettivi via whatsapp eccetera perché c'era un rapporto di fiducia conoscenza che rendeva assolutamente superfluo tutto il resto e alla fine quello che mi sembra possa dare più chance di successo è avere da ambo le parti voglia di fare un bel progetto e in questo io che invece sono una persona estremamente così illusa di essere razionale un po' qualche volta l'istinto secondo me può dare qualche segnale quindi in bocca al lupo per i vostri preventivi e per me che li leggerò l'istinto è in realtà l'euristica che uno mette insieme dopo che ha imparato ad analizzare decodificare un sacco di situazioni quindi è difficile averlo a vent'anni più passa il tempo e più riesci a elaborare in maniera molto veloce tutta una serie di segnali perché riconosci i pattern quindi è come il machine learning più casi gli dai da mangiare e più meglio funziona per saperne di più visita il sito www.freelancecamp.net e iscriviti alla newsletter riceverai subito sei lezioni per diventare freelance migliori una raccolta di alcuni fra i talk più interessanti e utili del freelance camp questo è un progetto qui è un progetto grazie dell'inferno